Mancano pochi minuti al via delle gare qui sul Cremona Circuit del Predators Challenge siamo in compagnia di Andrea Masci che è qui pronto con il suo casco allora Andrea qualifiche condizionate da alcuni problemi tecnici ma naturalmente darai battaglia soprattutto in gara 1 e in gara 2 con un clima davvero molto caldo si fa molto caldo ma è molto bello perché ci stanno molte persone quindi il caldo si sopporta con facilità si qualifiche abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici però speriamo di averli risolti partiamo dietro speriamo di avere una bella gara con qualche sorpasso volevo ringraziare tutto il team quindi Alberto Panzironi a casa, Alessio De Nicola qui e Daniela Percivali qui con me che hanno lavorato tutta la notte per mettere a posto la macchina quindi grande lavoro di squadra notte in bianco ma naturalmente sarà in gran forma per cercare di rimontare poi in gara si io ho dormito loro hanno lavorato quindi io sono quello più riposato adesso sta a me fare ben tesoro di quello che loro hanno fatto senti questo tracciato offre delle opportunità di sorpasso soprattutto in fondo al lungo rettifilo dunque sarà importante anche sfruttare quelle situazioni di gara è un tracciato bellissimo c'è un rettilino lunghissimo con una bella staccata in fondo prima di una S è veramente molto molto bello e sì quello è un punto sicuramente dove ci saranno dei bei sorpassi e allora grazie ad Andrea Masci naturalmente buon divertimento con le gare del Predators Challenge qui dal Cremona Circuit ciao